9 settembre 1991 ore 19 e 30 questa è la data e l'ora quando andò in onda per la prima volta e in diretta star news cinque anni dopo la nascita di videostar oggi la testata giornalistica della nostra emittente compie ben 26 anni 26 anni di informazione continua sempre puntuale sempre presente sul pezzo politica cronaca spettacolo sport cultura e tutto quello che ha fatto e che fa notizia star news ve lo ha e ve lo racconta con professionalità e onestà in tutti questi anni passati insieme a voi affezionati telespettatori abbiamo raccontato il cambiamento che le cittadine a noi vicine hanno fatto negli anni siamo stati nel bene e nel male testimoni degli eventi che si sono susseguiti abbiamo in archivio la storia un quarto di secolo delle comunità a noi vicine la nostra testata è stata una delle pochissime sino agli inizi degli anni 2000 ad offrire un'informazione capillare e ad essere un punto di riferimento in un mondo completamente privo di informazione se si escludevano i quotidiani oggi esiste internet e di conseguenza esistono una miriade di siti online di informazione esistono i telefonini con aggiornamenti in tempo reale a portata di mano oggi fare informazione molto più semplice con l'avvento della nuova tecnologia master news negli anni bui della tecnologia senza internet né smartphone è riuscita a tracciare la strada a tanti giovani che oggi ricoprono posti di prestigio collaborando con d'estate nazionali basti pensare per esempio che tra gli anni 90 e gli anni 2000 inoltrati per avere semplicemente una foto dalla polizia bisognava recarsi direttamente in questura a catania mentre oggi basta un email o per così dire una whatsappata per averla per fare un altro esempio se bisognava recarsi sul posto dove magari era successo qualcosa in una zona di campagna senza telefonino si rischiava di non raggiungere mai il luogo perché non potevano arrivare indicazioni dall'esterno oggi metti il navigatore satellitare e trovi anche un ago in un pagliaio ecco i modi di fare informazione sono cambiati totalmente dal punto di vista pratico logistico oggi è veramente tutto a portata di mano basta avere un telefonino si fanno le foto i video scrivi due cose ed ecco che il pezzo è già fatto e pubblicato da qualsiasi posto ci si trova la nuova generazione di giornalisti oggi non potrebbe lavorare senza avere internet una tecnologia che di certo ha migliorato in velocità e in praticità il campo del giornalismo ma allo stesso tempo ha messo in mano a tutti uno strumento potenzialmente pericoloso distruttivo e senza alcun controllo ci riferiamo per esempio all'avvento dei social network per video star garantire da 26 anni un'informazione costante puntuale precisa e onesta è una grande soddisfazione in un mondo che muta continuamente star news è riuscito a stare al passo e con un pochi sacrifici continuare a garantire quell'informazione libera che ancora oggi è punto di riferimento dei telespettatori di video star anche attraverso internet con facebook twitter youtube le dirette streaming e quant'altro oggi la concorrenza è agguerrita tra siti web e tv locali che con l'avvento del digitale terrestre si sono moltiplicate a dismisura senza migliorare la qualità purtroppo ma alimentando confusione ma star news resta sempre un punto fermo nel panorama dell'informazione locale oggi la testata compie 26 anni e vogliamo cogliere l'occasione per dire grazie a chi con ogni mezzo ci segue ogni giorno ripagando in pieno il nostro sforzo quotidiano buon compleanno star news e grazie a tutti voi